allora quello questo faccio così quello lo sistemo la ok così va bene così è molto più difficile ciao ragazzi ecco a voi la seconda sfida di super mario maker 2 come sempre dovete superare un mio livello che ho appena pubblicato quindi ragazzi se riuscirete a superarlo avrete come premio un video dedicato ai vostri livelli o una partita dove giocheremo insieme che poi verrà pubblicata su youtube se non si possono fare questi due cercheremo un accorto su qualcos'altro eventualmente basta che non mi chiedete sconti questa volta sarà molto più difficile della prima che ho lanciato che comunque dovrei lasciare qua sopra se volete vedere con qual era la prima sfida siete curiosi sapere trova la troverete se poi siete curiosi di vedere quale è stato il il premio che è toccato agire 10 quello che ha vinto la sfida precedente potrete trovarlo sempre qua sopra lo metterò comunque qua sopra ragazzi potete vedere il premio che gli è stato toccato quindi spero che spero vi piace quello che ne è uscito ok detto questo vi faccio vedere il livello e livello si chiama the mystery of the swamp non so se si pronuncia così comunque lei c'è il codice vedete il codice la ancora non c'è gioco da nessuno l'ho appena pubblicato quindi vi farò vedere come il livello ecco poi il livello ragazzi allora lo stile è super mario world siamo nel tema della foresta vedete questo qua vi lascio poi tutto il divertimento a voi vi auguro buona fortuna ragazzi perché ne avete veramente bisogno questa volta sarà molto più difficile ok ragazzi con questo è tutto io ho detto quello che dovevo dire sta a voi decidere se affrontare questa sfida oppure no chi sarà a vincere chi sarà chi riuscirà a superare questo livello chi chi lo scopriremo ci sarà qualcuno che la supererà questa sfida non si sa non si sa fin quando non ci proverete ragazzi io vi saluto vi invito a guardare giù in descrizione per vedere le compilazioni iscrivete raga e lasciate un bel like mi raccomando detto questo chiudo fra 3 2 1 0 e mezzo e ciao secondo me non la supereranno mai